La mostra di Giuseppe Diamantini, pittore incisore nato a Fossombrone nel 1623, è un evento straordinariamente importante per Fossombrone perché è un'iniziativa di carattere culturale che oggi viene inaugurata ma che durerà fino al 17 ottobre, ma perché il pittore che è stato scelto è fondamentale nella scena del Seicento, importantissimo come incisore, molto noto sicuramente a Venezia ma poco noto come spesso capita a Nemo Profeta in Patria nella sua città, la città che gli ha dato i Natali. Questa è una mostra molto importante, ci sono tantissime incisioni, tantissime pitture che valorizzano un artista straordinario. Il comune di Fossombrone insieme alla Regione Marche hanno fatto un lavoro straordinario, c'è il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e tutto questo sta a significare l'importanza che ha questa manifestazione in terra di Fossombrone. In questi cinque anni l'amministrazione comunale ha intrapreso tutto un percorso di riqualificazione dei musei e anche di conoscenza delle tante personalità che sono nati a Fossombrone nella storia. Abbiamo tutta una serie di figure molto importanti, se pensiamo ad Ottaviano Petrucci, Anselmo Bucci, insomma in tanti anni veramente delle figure importantissime e una di queste appunto è il pittore seicentesco Giuseppe Diamantini che devo dire in patria forse poco conosciuto, quindi abbiamo voluto in questa mostra presentarlo e farlo conoscere al grande pubblico, soprattutto però abbiamo piacere di farlo conoscere alla nostra città, ai nostri giovani per far sì che insomma queste sono le nostre radici e la nostra cultura e quindi siamo molto emozionati di dare il via alla mostra che durerà fino al 17 di ottobre, sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, quindi ci sarà grande possibilità di visitarla. Abbiamo fatto anche un biglietto speciale per i nostri concittadini, un biglietto da un euro, proprio per far sì che tanti cittadini, forse impronesi, vengano a visitare questa mostra. Poi naturalmente ci auguriamo che arrivi gente da tutta Italia e anche da fuori, quindi un grande momento per la città. Io spero che la città la prenda come una grande festa. La mostra dedicata al pittore Diamantini che oggi andiamo ad inaugurare rappresenta un po' il compimento, l'epilogo diciamo così di un'esperienza che durò ormai da cinque anni, cioè dall'inizio del nostro insediamento abbiamo puntato molto al rilancio turistico e culturale della città, iniziato con un restauro, un restyling dei nostri beni culturali che sono importanti, sono tanti, che abbiamo trovato in uno stato diciamo un po' così di abbandono e quella di oggi per cui diciamo arriva alla fine di un percorso che ci ha portati appunto a valorizzare le nostre strutture. Un evento importante, un evento per il quale devo ringraziare la regione per il grosso contributo che ci ha dato perché per un comune come il nostro è un impegno veramente notevole, ringrazio anche i dipendenti e tutti coloro che hanno collaborato. E per questa mostra abbiamo realizzato anche un catalogo dedicato al pittore Diamantini che non è un semplice catalogo ma è un vero e proprio volume dedicato al pittore stesso, incisore per cui sicuramente anche questo sarà comunque un oggetto di valore legato appunto a questa iniziativa. Il catalogo si configura come uno strumento che serve ad accompagnare il visitatore, a raccontare insomma nello specifico tutti gli aspetti della sua attività ma si configura come una vera e propria monografia in quanto vengono pubblicati, riprodotti dipinti che sono conservati molto in collezioni private addirittura anche a Praga nel castello di Dobriz dove c'è un importantissimo dipinto che venne commissionato a Diamantini dall'allora ambasciatore imperiale presso la Serenissima di Venezia nel 1662. Da tempo Giuseppe Diamantini aspettava di essere riscoperto il suo profilo, la sua vita, la sua carriera e siamo molto contenti che avvenga nella città che gli ha dato a Natali che quindi lo fa rinascere alla conoscenza anche del grande pubblico. In questa mostra lo scopriremo in tutti i settori della sua attività, pittore, disegnatore, incisore un artista tutto tondo che credo per la prima volta si possa conoscere appunto in tutte le sue sfumature.